Buongiorno a tutti ragazzi, ciao, come state? Piccola confessione da farvi, sono quasi le 11 di domenica sera, io sto registrando dopo aver visto i risultati delle partite di oggi, questo è un video che uscirà lunedì mattina perché io sarò in viaggio di restare a Torino per andare all'Allianz Stadium e quindi semplicemente avevo necessità di comunicare, di chiacchierare un po' con voi in attesa di quello che sarà l'esordio ufficiale dell'evento su questa sera, io non penso nemmeno che sarà l'ultimo contenuto di oggi prima del post partita, ovviamente potrebbe esserci un altro video che andrò a registrare una volta arrivato a Torino, però non c'è certezza perché registrare tanto per secondo me non ha troppo senso, oggi volevo fare un po' una chiacchierata di quelle che fanno bene tra amici dall'altra parte dello schermo in attesa di vedervi anche perché tantissimi mi hanno scritto che saranno presenti, che ci vedremo fuori dallo stadio, faremo due chiacchiere eccetera eccetera. Però inizia la stagione, inizia la stagione e sarà una stagione lunga perché siamo di fronte a quella che è la stagione più lunga della storia della Juventus, giocheremo tante partite e speriamo di giocarne il più possibile perché più partite giochiamo più significa che stiamo andando bene. Oggi inizia un percorso, oggi inizia un viaggio, un viaggio che inizia nella maniera forse meno adeguata per la Juve che sta ancora aspettando tanti rinforzi sul mercato e credo che venga un po' fuori il limite di due colpe. La prima ovviamente dell'organizzazione del calcio mercato perché per me è ridicolo, non trovo un'altra parola per descrivere un campionato che inizia col mercato aperto. Per me è ridicola questa cosa, nel momento in cui si scende in campo il mercato deve essere chiuso. Questa è una mia lettura e vedo che comunque tante squadre sono ancora indietro. L'altro giorno Marotta ha detto una cosa che secondo me è una cosa saggia ma che dobbiamo cercare di portare a nostro vantaggio e dobbiamo cercare di smentire perché Marotta dice noi sì, va bene, d'accordo, sapete la nostra posizione, la nostra rivale principale è il Milan perché Juve e Napoli sono un po' dei cantieri che stanno cambiando tanto. Io devo ancora far uscire la mia prediction su quella che sarà la questione del finale di Serie A. Ho già le mie idee in mente ovviamente che erano idee già prima di questa giornata di Serie A e non deve interessarci, ve lo dico subito, non deve interessarci il risultato delle altre ma ne parlerò nella seconda parte del video. L'altro limite è quello dei dirigenti perché la situazione del Napoli è una situazione complicata di squadra, di mercato eccetera eccetera e poi vedremo se ci saranno delle repercussioni con Conte, con Manna, con De Laurentiis e tutto quello che è accaduto dopo una sonora sconfitta, veramente un tonfo del Napoli che non mi aspettavo così perché 3-0 la prima credo che sia la partenza peggiore di Antonio Conte da quando è un allenatore con uno status importante. Ma anche noi non si andrà meno perché come vi dicevo prima iniziamo una stagione che è una stagione lunga, complicata, difficile e la iniziamo non nelle migliori condizioni quindi c'è una colpa ovviamente di quelle che sono le federazioni che permettono di iniziare le partite con le rose non complete ma ci sono anche delle responsabilità dei dirigenti. Non siamo stati bravi a chiudere la rosa il prima possibile, è stato bravo Tiago Motta a sminuire il tutto in conferenza stampa dicendo stiamo lavorando, dando il massimo per creare una squadra veramente forte e competitiva. Tiago Motta ha deciso di salvaguardare Giuntoli, di aiutarlo in questa campagna dal punto di vista comunicativo. Samaric è un giocatore dell'Udinese ed è dell'Atalanta, è stato ufficializzato dall'Udinese quindi in teoria, in teoria, se tutto andrà come deve andare poi il Cobbeners sarà liberato così come Lucman perché Lucman è un altro giocatore che proprio nelle ultime ore ha chiesto l'accessione all'Atalanta e se Conte non ride sicuramente Gasperini non sarà felicissimo nemmeno lui. Diciamo che è stato anche un po' un incastro perché Gasperini sembrava potesse andare via dall'Atalanta da Bergamo andare proprio a Napoli invece poi è stato Conte. Chissà che in questo momento non possano essersi spentiti un po' tutti e due ma lasciamo la star l'Atalanta che giocherà anche lei proprio in questo lunedì insieme a noi cerchiamo di concentrarci sul nostro mercato. Una richiesta che vi faccio, non guardate i risultati delle altre. Il fatto che l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, la Fiorentina non abbiano vinto non ci deve interessare. Noi dobbiamo soltanto imparare da questo obbio di campionato e dobbiamo capire che tu ti puoi presentare nelle migliori delle condizioni possibili nelle peggiori delle condizioni possibili dal punto di vista del mercato che poi il risultato è quella cosa che va oltre. Tiago Motta l'ha spiegato molto bene nella conferenza stampa pre-partita ha detto parliamo della partita, so che non vi piace parlare della partita parliamo della partita. L'Inter campione d'Italia che ha mantenuto tutta la struttura che non aveva bisogno di aggiungere ma ha comunque aggiunto dei parametri zero non ha vinto. Il Milan che ha cambiato allenatore, ha cambiato la struttura, ha cambiato alcuni giocatori non ha vinto. E a me Fonseca continua a non convincere tra l'altro. Il Napoli di Conte non parliamone perché ha fatto veramente una brutta, bruttissima figura tant'è che Conte ha dovuto chiedere scusa e secondo me ha tenato in ballo anche degli argomenti abbastanza pesanti per essere la prima giornata di campionato. Tiago Motta mi è sembrato il più equilibrato, il più saggio, il più maturo. Questo non significa niente dal punto di vista del campo, però sappiamo bene che la comunicazione è impattante. Noi siamo stati tutto l'ultimo anno a discutere più su quello che doveva essere l'obiettivo piuttosto che quello che doveva essere il campo. Non sarà più così. E' ovvio che siamo arrivati a delle estremizzazioni. Da non conta niente i giocatori che contano solo i principi e non conta niente i principi che contano solo i calciatori. E' ovvio ed è logico che continuino tutte e due le cose. E oggi la Juventus è una squadra corta, è una squadra che rispetto all'anno passato ha cambiato tanto, ha voluto cambiare tanto, che secondo me è migliorata soltanto a centrocampo per il momento e comunque manca ancora Coop Manners che sarà l'acquisto che dovrà svoltare la Juve, ma la Juventus per affrontare il Como ha tutte le carte in regola per andare lì, vincere e fare una bella partita. Quindi non focalizziamoci sul mercato, non abbattiamoci perché sono state settimane difficili, perché il tifoso della Juventus è innamorato della Juventus. Questo è un dato di fatto, è una cosa che sappiamo e questo stesso canale ne è la prova. Siamo quasi 250.000 persone che tutti i giorni si connettono per cercare di sentire un punto di vista sulla squadra, per rispondere ad un altro punto di vista sulla squadra. Siamo innamorati della nostra squadra. L'amiamo e per tutte le cose che amiamo abbiamo ovviamente delle paure, dei timori, delle remore. Abbiamo paura di non essere pronti, di non essere all'altezza. Abbiamo queste paure. Sta iniziando la stagione, è normale che sia così, però godiamocelo. Godiamoci questo momento. Cerchiamo di dimenticare, non concentriamoci sul finale, perché le persone sono ancora qui che pensano che si dovrà per forza fare meglio rispetto all'anno passato. Non si prendono in considerazione tutti gli elementi, cioè che siamo alla prima partita del primo ciclo, invece l'anno passato eravamo al terzo anno di un ciclo di un allenatore che aveva già fatto otto anni alla Juve. Sono cose che non si prendono in considerazione. Ormai il mondo del calcio è divisivo. Devi fare meglio, devi fare questo, devi farlo subito. Ecco, io invece oggi voglio veramente che questo video possa farvi capire che stiamo andando in una direzione diversa. Ci vorrà pazienza, ma ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Io sono convinto che già da quest'anno la Juventus potrà darci delle ottime soddisfazioni. Si vincerà, non si vincerà, questo lo impareremo alla fine. L'anno scorso io vi ho sempre detto che la mia speranza, la mia più grande aspettativa non era quella di vincere, perché ero convinto e sapevo che c'erano delle squadre più forti, l'Inter era la più forte, il Napoli era la campione d'Italia, eccetera, eccetera. Però sarebbe stato bello lottare fino all'ultimo, complicare la vita a quegli altri, diventare la squadra antipatica che andava a disturbare. Io in questo momento voglio vederla allo stesso modo, ma con una differenza. Io voglio vedere questa squadra crescere, voglio che ogni partita aggiunga un pezzettino. Io voglio vivere nella più totale tranquillità, nel più totale entusiasmo, perché tanto abbiamo scelto una strada diversa, abbiamo scelto questa strada qui. È una strada che Tiago Motta ha spiegato molto bene ieri. Niente alibi, ci sono i meriti, c'è il lavoro, c'è il sudore, c'è la prestazione, e da quello arrivano poi i risultati, passo dopo passo, senza la voglia di arrivare già alla fine. Noi abbiamo fatto tutto l'ultimo anno partendo dalla fine. Bisogna arrivare nelle prime quattro. E per arrivare lì il percorso era indifferente. Noi non dobbiamo guardare la fine, dobbiamo concentrarci singolarmente su tutte le difficoltà che arriveranno, e saranno tante le difficoltà, perché sarà una stagione, ripeto, lunga e complicata. Aggiungo, quest'anno avremo una rosa, avremo una squadra molto organizzata in campo, perché questa è l'unica cosa che abbiamo davvero visto in questa Stata di Juventina. L'organizzazione è differente dal punto di vista del campo. Ovviamente tu sa cosa fare quando ha la palla, sa cosa fare quando non ha la palla. Non sappiamo come reagiremo nei momenti difficili, perché arriveranno i momenti difficili, anche se avrai un'organizzazione perfetta con la palla o senza palla. E ai momenti difficili devi capire come reagire. Questo è un gruppo che negli ultimi anni di momenti difficili ne ha vissuti, non solo in campo ma anche extracampo. Ed è un gruppo che è stato forgiato da questi momenti difficili. Quindi io spero che tutto quello che è stato vissuto, tutto quello che ci siamo portati dietro, possa aiutarci da questo punto di vista, e possa portarci ad avere una squadra attemprata nell'orgoglio. Questo è il più grande augurio che voglio fare alla Juventus di oggi. Però noi oggi iniziamo una stagione che non deve, non deve vederci aver fretta. Non dobbiamo aver fretta di fare i tre punti per superare l'Inter, i tre punti per superare il Milan, i tre punti per superare il Napoli, perché non contano niente oggi. Certo, aiutano. Tanto iniziamo a metterli in saccoccia, iniziamo ad accumulare dei micro vantaggi, iniziamo a mettere un po' di benzina sul fuoco, bastoni tra le ruote agli altri, un po' di pressione per far vedere che non siamo solo in un cantiere, ma siamo una realtà che vuole essere costruita e vuole essere percepita. Perché oggi partiamo un po' dietro, eh ragazzi? Partiamo un po' dietro nelle gerarchie, nelle idee di tanti nostri rivali, e questo non è un male, anzi. Questo è un bene. Solitamente quando la Juventus viene data per morta, è sempre lì che poi la Juve tira fuori quel qualcosa in più e dimostra di non essere morta, anzi, di essere una squadra viva e vegeta. Oggi i riflettori sono puntati sulle altre, ma oggi tutta Italia sarà lì a guardare noi e a gufarci, perché loro sono partiti male, quasi tutti, se non la Lazio o la Sverona, perché bene o male sono le uniche due squadre che hanno vinto, e vorranno vederci nella loro stessa situazione. Noi invece abbiamo una partita contro un avversario che è una neopromossa, è una squadra sicuramente impattante, con un progetto serio, una squadra ricca, hanno le idee chiare di quello che vogliono fare, ma loro non hanno nel battere la Juventus in trasferta alla prima di campionato l'obiettivo principale. Loro sono una squadra che dovrà fare un percorso diverso, che però vorrà sicuramente non venire in vacanza, non venire in ferie, anche se siamo ancora ad agosto. Noi il Comolo possiamo battere. Questo è poco, ma sicuro. Abbiamo i giocatori per farlo, la preparazione per farlo, l'entusiasmo per farlo, perché finalmente c'è tanto entusiasmo nella Juve. Io non vedo l'ora di essere a Torino, non vedo l'ora di essere allo stadio, non vedo l'ora di essere insieme a voi, tra l'altro guarderò la partita insieme a alcuni di voi, grazie al concorso che abbiamo fatto con Zonda Crypto, quindi meraviglioso, bellissimo. Io vi faccio questa richiesta. Vivetela così quest'annata. Prepariamola così. Non focalizziamoci sullo stress di dove dobbiamo arrivare, ma gustiamoci ogni singolo momento, ogni singola partita, ogni singolo pezzettino che alla fine dell'anno poi ci porterà a dire la stagione è andata così o è andata colà. Non fasciamoci la testa subito, non mettiamoci pressione da soli, perché davvero non deve essere un confronto con la Juve di Allegri. Questa è la Juve di Tiago Motta. Stop. I confronti sono sempre dannosi, a maggior ragione, quando cambi tutto. Lasciamo stare il passato. Prendiamolo e mettiamolo da parte. Concentriamoci sul presente e cerchiamo di fare il nostro meglio, perché abbiamo visto che già le altre squadre non sono partite benissimo, quindi tutti possono scivolare, a maggior ragione in agosto, quando c'è molto caldo, quando le gambe sono ancora pesanti, le preparazioni sono inatte, le rose non sono complete. Freghiamocene, tranquilli, rilassati, sereni a fare il nostro, che sappiamo fare, possiamo fare molto bene e alla fine dell'anno possiamo anche essere molto contenti. Ciao a tutti ragazzi e forza Juve, spero di avervi aiutato con questo contenuto mattutino.